Dalle encicliche del Papa all'ultimo rapporto del G8 tutti parlano di un nuovo connubio tra etica ed economia, tra etica e mercato. È sicuramente importante riportare l'etica nel mercato, però c'è una domanda che mi chiedo. Come abbiamo potuto accettare che il mondo finisse sull'urlo del baratro dopo dieci anni nei quali le retribuzioni dei top manager erano mille volte superiori a quelli dei singoli lavoratori e soprattutto nel momento in cui il lavoro di chi stava seduto in una scrivania a fare speculazioni finanziarie veniva retribuito fino a 500 volte quello che valeva il lavoro delle persone che ogni giorno si svegliano e lavorano col sudore della fronte. Questo era sotto gli occhi di tutti, però la stima andava sempre ai top manager, ai grandi finanziari e nessuno invece si interessava di quelli che con il loro lavoro mandano avanti l'Italia. Oggi l'Italia può contare solamente sul loro lavoro, sinceramente speriamo che questo G8 serva qualcosa e che molte delle persone che si sono dedicate a fare semplici speculazioni finanziarie tornano a lavorare. Credo che in questo momento storico sono loro i primi che dovrebbero ricominciare a lavorare col sudore della fronte per dare un futuro a un mondo che sinceramente hanno compromesso per una vedità che non sembra più tollerante. A presto.